Andiamo direttamente alle notizie senza indugi. La federazione italiana gioco calcio FGC, ieri, tramite un comunicato ufficiale, ha informato che la Juventus è stata coinvolta in altre due indagini, una per presunte irregolarità nei pagamenti ai giocatori e un'altra per relazioni improprie con altre squadre della Serie A. Di conseguenza, la Juventus affronterà altri due procedimenti. In precedenza, la Juve è stata punita con la perdita di 15 punti, decisione che è stata recentemente annullata, ma che avrà ancora un nuovo verdetto e la Juventus potrebbe essere nuovamente punita. La FGC accusa la Juventus per la responsabilità diretta e oggettiva degli atti e dei comportamenti dei suoi ex dirigenti, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Sono accusati di violare l'articolo 4 del Codice Sportivo per vari atti e comportamenti legati a quattro diversi aspetti oggetto di indagine, le manovre salariali nelle stagioni dal 2019 al 2021. Inoltre, la FGC accusa anche la Juventus di relazioni improprie con altre squadre della Serie A, come la Sampdoria, l'Atalanta, il Sassuolo, l'Udinese, il Bologna e il Cagliari. In totale, la Juventus dovrà ora rispondere a quattro azioni diverse presso la FGC. Questa è un'altra situazione complicata che la Juventus dovrà affrontare in tribunale a causa dei suoi ex dirigenti. È assurdo. Commenta qui sotto come interpreti quest'accusa. Questo video è stato informativo? Se sì, ti chiedo un like e l'iscrizione al canale. Ci vediamo domani.